buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 11 ottobre 2023 cominciamo alla giornata sfogliando i giornali a partire dall'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi ebbene oggi è un altro grande santo ormai uso questo aggettivo da diversi giorni e non si può non usarlo per papa giovanni ventitresimo che dire di questo papa che molti di noi hanno conosciuto un papa che ha assunto una decisione epocale quella del concilio vaticano secondo quello del papa della luna della carezza ai bambini un papa buono un papa che ha lasciato il segno in tutti quelli che lo hanno conosciuto ma anche nella storia della chiesa papa giovanni ventitresimo vediamo ora le previsioni del tempo una giornata piuttosto piacevole che si preannuncia oggi eccola qua la grafica in tutta la regione bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino deboli da ovest nel pomeriggio moderati e proveranno da nord nord ovest il mare è quasi calmo le temperature da 15 leggermente più basse la minima e da 24 gradi leggermente più bassa anche la massima però insomma siamo ancora su valori molto molto piacevoli insomma un poloverino qualche volta non guasta però ancora ci sono in giro molte camicie o molte magliette con le maniche corte siamo ancora in buona stagione e allora apriamo i giornali oggi apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo un significativo anniversario pensate le suore di san marco festeggiano 100 anni di presenza nella città di fano il record delle suore francescane 100 anni a educare i bambini fanesi è una benemerita istituzione quella partata è piccolina e a fianco alla chiesa di san marco che ha perso addirittura anche il suo titolo parrocchiale proprio recentemente una decisione insomma che non è molto piaciuta devo dire ai fedeli però insomma la chiesa si evolve insomma e poi abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda il reperimento dei sacerdoti comunque c'è una buona notizia oggi a questo proposito sui giornali ne parleremo dopo ognuno è un po affezionato alla sua chiesa comunque le suore sono ancora lì perdurano hanno una missione da compiere e continuano a compierla la scuola dell'infanzia l'educazione dei bambini è una scuola dell'infanzia che è iniziata nel 1923 è proseguita poi con seguendo tutte le alterne vicende lo sviluppo della città di Fano pensate che nel 1923 la città aveva se no 30 mila abitanti ora siamo a 60 mila è subentrata una guerra mondiale tutto lo sviluppo poi tutti i problemi che abbiamo traversato e ancora le scuole le suore sono lì a educare i bambini a educare in senso civico a educare in senso religioso ora hanno organizzato due momenti di incontri per festeggiare questo significativo anniversario ci sarà anche il vescovo andreozzi ovviamente con loro il 27 e il 28 ottobre ebbene abbiamo qui suor maria di giacinto che spiega un attimo com'è la situazione tre insegnanti laiche e la cuoca e le suore hanno organizzato due momenti di incontro il primo appuntamento è per venerdì 27 alle ore 21 nella chiesa di santa maria del gonfalone ci sarà il vescovo andreozzi la madre superiore al generale suor lilia agnese continui e durante la serata sarà proiettato un video su tutta la storia della presenza delle suore francescane nel nostro territorio poi abbiamo un altro giorno sabato 28 ottobre alle 16 e 30 in programma nella chiesa di san paterniano una celebrazione religiosa anche qui sarà presente il vescovo cui seguirà un rinfresco nel chiostro quindi anche un momento di festeggiamento per queste religiose che si dedicano soprattutto agli altri e ai bambini è la cosa più bella ed ora cambiamo notizia vediamo un personaggio significativo si tratta di manuel de marc è un ragazzo che cosa fa costruisce penne costruisce penne nel suo laboratorio ma le fa in un modo veramente eccezionale un modo artistico ne ha fatte circa 2000 da quanto ha cominciato tanti pezzi unici fatti a mano dal ventottenne fanese consegnati a uomini come papa francesco il presidente napolitano uomini di riguardo che sono stati fieri contenti di ricevere questo significativo oggetto da parte di manuel e qui vediamo manuel con in mano un suo prodotto ed ora parliamo della evoluzione politica abbiamo visto come dal civismo alcuni esponenti presenti in consiglio comunale di fano tendano a passare ad azione una forza politica ben determinata e sono soprattutto enrico cipriani che il capogruppo di noi città ed edoardo carboni capogruppo di noi giovani insomma questa questo passaggio assottiglia molto la presenza delle liste civiche in consiglio comunale e lo rimarca anche mirco pagnetti capogruppo di insieme e meglio ed ora nel gruppo di azione anche se i due gruppi di delle liste civiche noi città e noi giovani non sparisce però si potrebbe costituire un gruppo perché già di questo fanno parte il sindaco fanno parte stefano marcheggiani ed ora sembra che facciano parte anche eduardo carboni ed enrico cipriani c'è questa evoluzione che il momento è formale siamo ormai alla fine della tornata amministrativa e questo cambia poco in senso politico altra cosa dice bagnetti sarebbe stata se la cosa fosse venuta un anno fa poi abbiamo delle dichiarazioni anche di piero valori che rimane però al suo posto e rimane perché dice che l'esperienza del civismo come l'ha sperimentata lui è un'esperienza utile e proficua per la città insomma vedremo le evoluzioni che si che si stanno succedendo in previsione ovviamente della prossima tornata amministrativa e soprattutto in previsione delle elezioni ovviamente passiamo alla cronaca passiamo alla cronaca perché il resto del carlino questa mattina evidenzia una paura una paura di una barista che ha il suo esercizio nel centro commerciale di san lazzaro ebbene è un centro commerciale che anche in passato ha suscitato dei problemi è oggetto di raduni di gruppo di giovani si dice non molto raccomandabili alcuni sono tossicodipendenti alcuni si dedicano un po ad intemperanze danno fastidio inveiscono contro i clienti e questa signora che si chiama alissa ha vent'anni e gestisce un locale proprio nel centro commerciale di san lazzaro dice ho paura a stare qui sola ho chiamato i carabinieri i carabinieri sono intervenuti magari in tempi e in modi e secondo appunto i loro programmi la cosa insomma però ha lasciossitato qualche problema alla signora che chiede più controlli una presenza più costante in questi punti critici del assetto sociale e dell'ordine pubblico della città di fa giriamo la pagina giriamo la pagina ne parliamo di viabilità e c'è l'assessore alle infrastrutture della regione marche francesco baldelli che ha dato comunicazione di investimenti per lavori stradali c'è stato un sopralluogo compiuto da baldelli in modo particolare sulle strade dove si stanno facendo dei lavori per un investimento considerevole 13 milioni e tra questi c'è anche la statale 424 della val cesano e c'è anche la superstrada fano grosseto sono iniziati dunque i lavori per 13 milioni sulla statale della val cesano e in ultima parte del 2023 da incorniciare per le strade della provincia di pesaro urbino che ha avuto questo grosso finanziamento e qua ci sono tutti gli interventi che vengono appunto riproposti dal giornale ai lettori gli studenti a scuola di protezione civile a cartoceto una bella iniziativa per prepararli in occasione di collaborare alle ad interventi di particolare importanza quando capitano dei problemi di carattere importante di carattere ambientale terremoti alluvioni e via dicendo comunque è decollato a cartoceto il progetto scuola multimediale locale che ha la finalità di diffondere appunto tra gli studenti le migliori pratiche per affrontare l'emergenza non si è mai pronti quando capitano problemi grossi e quindi avere un'esperienza uno una prova già fatta nel territorio costituisce un aiuto importante ad urbino a bei abbiamo il sindaco gambini che preannuncia importanti investimenti sulle cesane parco dell'acquiloni sarà qui che verrà realizzata alla festa degli aquiloni sulle cesane cesane terra di sport sono aperti tutti i cantieri per completare le strutture richieste ci sono tre importanti impianti che ravvicinati tra loro faranno appunto di questo luogo un vero impianto un vero mega impianto di carattere sportivo si tratta del campo di pratica per il golf il by park e il parco vero e proprio che sarà la casa della festa degli aquiloni quindi a urbino si lavora appunto per costituire un punto di socialità importante e anche un punto di carattere ambientale altrettanto importante alcuni alcune notizie di cronaca ieri mattina intorno alle 11 in viale gramsci ad urbino le fiamme sono scaturite a bordo di un autobus della linea city tour iveco di proprietà dell'ami l'autista non ha perso la calma ha posto in sosta l'autobus ha fatto scendere i viaggiatori poi lo ha parcheggiato lontano dove è intervenuto per spegnere l'incendio la gru di santa lucia non si toglie pensate lì dal 2014 il sindaco gambini aveva detto che l'avrebbe eliminata però la ditta ha ha detto lasciatecela ancora fino ai primi mesi del 2024 perché dobbiamo completare dei lavori e quindi riapre il cantiere insomma ancora qualche mese per poi rimuovere questo traliccio che è lì estona da diverso tempo un vero faccio a faccia questa è una notizia interessante un vero faccio a faccia con la peste nera ebbene qui si parla della peste che nel 1600 ha causato migliaia di morti in tutta italia è la peste dei promessi sposi del manzoni la peste che è partita da napoli poi è arrivata anche a genova dove pensate ha causato la morte di 55 mila persone ebbene era un covid molto più aggressivo allora questa questo virus che circolava circolava a causa delle pulci e dei ratti che circolano che insomma erano molto molto presenti in quell'epoca di scarsa igiene in tutte le città che cosa è accaduto è accaduto che nel 1989 una esplorazione sperologica a genova ha così scoperto nei cunicoli centinaia migliaia di ossa teschi femori tante 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 ossa accumulate che addirittura ostruivano chilometri di cunicoli sono appunto i corpi delle persone morte di peste di peste i nobili venivano sepolti nelle chiese le persone comune venivano messe nelle fosse comuni e appunto guardate la fotografia di questo cunicolo riempito di ossa ebbene le ricerche compiute nel 2017 dal centro studi sotterranei di Genova e da Michele Betti dell'università degli studi di Urbino hanno cominciato a comprendere quello che è accaduto hanno fatto degli esami su questi scheletri e hanno cercato di capire la natura della loro morte come hanno vissuto che cosa avevano mangiato quali sono state le malattie che hanno avuto uno studio importante che ha compreso dunque anche l'università di Urbino a lunano si svolge la festa della castagna siamo in ottobre siamo in autunno e le castagne le caldarroste le castagne lesse anche la farina di castagne sono veramente dei cibi che sono che usati in modo opportuno sono veramente molto molto buoni da domenica da venerdì a domenica torna dunque questo atteso appuntamento con la tradizione dell'autunno e della montagna un'occasione in più per andare a un anno e conoscere questo bellissimo paese lavoratori in nero multa da 17 mila euro alla discoteca Masai di Cagli ebbene la compagnia di Fano del nucleo ispettorato del lavoro ha scoperto questa cosa in questo locale c'erano quattro dipendenti assunti in nero su 12 e il proprietario ha avuto una multa di 16 mila 900 euro poi è stata contestata anche una violazione al testo unico sulla salute e sulla sicurezza del lavoro riguardante la mancata informazione e formazione dei dipendenti quindi ai 16 mila e 900 euro si sono aggiunti un'altra si è aggiunta un'altra multa da 3 mila e 100 euro in più deve c'è la chiusura del locale che rimarrà tale fin quanto il proprietario non avrà regolarizzato la posizione dei quattro dipendenti assunti in nero a mercatello sul metauro emerge questa edicola che rappresenta un pezzo di storia della frazione già una sessantina di anni fa era anche un negozio di alimentari lo vediamo qua in questa fotografia qui l'edicolante oggi rimane un grande punto di riferimento cittadino teniamoci care le edicole perché sono un punto di riferimento importante sia per l'informazione che per il divertimento perché poi ci sono anche oggetti di gioco ma soprattutto sono anche un centro di socialità se spariscono sparisce un pezzo importante del nostro vivere quotidiano pesaro pesaro si occupa si preoccupa anzi della situazione che riguarda che riguarda che riguarda il turismo e soprattutto il programma di iniziative per la capitale della cultura che è una serie di avvenimenti circa mille avvenimenti pensate mille manifestazioni che correderanno questo avvenimento a partire dal prossimo gennaio e se ne è parlato negli stati generali del turismo la regione deve crederci di più ha detto il sindaco ricci e c'è stato anche un intervento video con il presidente della regione napoli che per procida ha detto ha dato un investimento di 15 milioni di euro pensate quante la regione marchi ha dato a pesaro per la capitale della cultura 500 mila euro la 15 milioni qua 500 mila euro e ricci ha detto ad acquaroli almeno date ce n'è altrettanti fino a arrivare a un milione il sindaco laccia un appello al presidente della regione ci hanno dato a 500 mila euro ce ne aspettiamo ancora altrettanti l'assist glielo fa De Luca De Luca il presidente della regione campania per procida abbiamo investito 15 milioni di euro insomma c'è una certa differenza vediamo le altre notizie sulla pagina di pesaro il primo crack berloni sono passati 11 anni e ancora aspettiamo gli stipendi arretrati parlano così 380 operai della ditta ancora dobbiamo avere tra i 2 e i 3 mila euro ciascuno insomma non è poco e poi vediamo che l'asta di Villa Bucci è andata ancora deserta viale della repubblica un mito che sta sfiorendo è una bellissima villa però occorrono tanti soldi non solo per acquistarla ma anche poi per recuperarla per restaurarla è una dimora di inizio novecento che si poteva prendere ad un milione e 350 mila euro una donna disperata una donna in depressione ha minacciato il suicidio mi uccido aveva ingerito delle pasticche e aveva minacciato di gettarsi sotto il treno per fortuna ha chiamato i carabinieri i quali sono riusciti a calmarla e quindi a risolvere la situazione nel frattempo la pattuglia ha raggiunto la casa che era proprio vicino alla ferrovia e ha soccorso la donna la lettera di ucchielli la valle del foglia deve essere inserita nei cartelli della 14 il sindaco di valle foglia scrive alla società autostradale ha pienamente ragione per fare promozione anche alla sua località quest'area merita il giusto riconoscimento per quello che esprime e ci sono stati simili casi in giro per l'italia che si possono replicare anche qui insomma avere anche dei cartelli marroni che evidenziano le località turistiche ora non si protende tanto ma un'uscita anche per valle foglia potrebbe essere rimarcata apriamo ora il corriere adriatico vediamo che in apertura si parla dei piccoli ma importanti problemi che accusa il centro storico di fano si parla ora di grandi progetti di waterfront di arredi di piazze però c'è la piccola manutenzione che è carente e vediamo qui alcuni stati fotografati appunto dal giornale l'incuria della città guardate gli scrementi dei piccioni nei pressi della pescheria vediamo le scritte vandaliche che sono state fatte nei muri guardate questa in via de amicis che è la via che conduce al teatro romano e poi anche ora gli scavi di vitruvio e vedete anche ora questa lapide a brasa nel parco di piazza amiani ebbene sono segni che dovrebbero essere rimossi ma purtroppo sono lì da tanti tanti anni sono piccoli particolari che però messi tutti insieme danno una cattiva impressione a una città d'arte e cultura come dovrebbe essere quella di fano ottobre rosa la prevenzione inizia a tavola ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno e vediamo che si svolge oggi alle 17 al paricentro al paricentro di via montavecchio la tavola rotonda sulla alimentazione a cura della dottoressa nutrizionista stefania bertoni è una iniziativa che si inquadra nella prevenzione dei tumori al seno perché una sana alimentazione fa prevenzione che poi confluirà in altri incontri in tutte le visite che vengono programmate in questo mese in questo mese visite gratuite per così assicurarsi che nel seno non ci siano problemi e poi il tutto culminerà il 22 ottobre con la grande passeggiata organizzata dall'assessorato alle pari opportunità anche il corriere driatico evidenzia il sopralluogo compiuto dall'assessore baldelli sulle strade dove è in atto un finanziamento di 13 milioni e vediamo poi che nella discarica di monte schiantello c'è stato un principio di incendio forse una un focolaio che covava per quanto riguarda non so un camino forse le ramaglie di un camino che erano rimaste ancora incandescenti però è stato domato in breve tempo dai vigili del fuoco quindi non ci sono stati conseguenze per quanto riguarda questo problema giriamo la pagina vediamo sulla pagina della valmetavoro l'articolo che riguarda il sopralluogo fatto dalle forze dell'ordine al masai di cagli masai sanzioni per 20 mila euro trovati quattro addetti in nero laureato si fa prete a 38 anni ecco vi ho anticipato questa notizia parlando delle suore di san marco e la carenza anche di sacerdoti che caratterizza il nostro territorio un po come tutte le altre diocesi ebbene la chiamata in terra santa ha fatto sì che marco rulli abbia preso la decisione di farsi sacerdote ebbene l'investitura sarà fa l'ordinazione scusate sarà fatta sabato nel duomo di pergola e don marco rulli di calcinelli e finalmente sarà un nuovo apporto alla chiesa locale ebbene una vocazione maturata nel momento in cui ha visitato la terra santa nei luoghi di gesù ho capito che la mia strada era servirlo ha dichiarato appunto il nuovo sacerdote vediamo senigallia senigallia leader delle città gourmet quando la cucina diventa spettacolo oltre alla musica oltre a tutte le altre iniziative di intrattenimento senigallia ha scoperto la enogastronomia una forza d'attrazione veramente forte che costituisce un nuovo apporto appunto alla vocazione turistica della città siamo in conclusione l'unica notizia che vi ricordo che vi apro ancora è l'apertura che fa il corriere adriatico sulla pagina di pesaro ci saranno 1020 14 a settimana la regione non perda l'occasione e questo è nel quadro di Pesaro città della cultura a livello nazionale e questo è tutto per il momento massimo foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti